Dopo innumerevoli sfide sui social Luis Sale e Federico Lucia si sfidano in una sfida ad armi pari finalmente sul mio canale domani alle 2 credevo che questa fosse la parte interessante della zona degli arrivi in aeroporto invece questa credevo che questo fosse l'aspetto divertente del della zona arrivi dell'aeroporto qua e invece questo non avevo visto questo la macchina per i fiori mi trovo a gerusalemme ho trovato la papa mobile